E benvenuti a Cancro da Cibana, ancora una volta! Credo convenga... Credo convenga a schivare all'indietro. Però poi ci vuole un tempismo assurdo. Eh sì, perché devi proprio muovere all'ultimo. Cioè devi stare lì ad aspettarla. No, 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 no! Oddio. Uno di danno! Mi ha ucciso per uno di danno! Oh no! Eh, era quello che ci montava. Tua madre cagna più del tuo cane. Oh favore... Guarda che avevi il cancelletto dietro. Non avevi grande spazio C'ho provato a contraattacare aggressivo E' buono il calcio perchè gli mangia un po' di stamina Anche se lo para Gli mangia un bel po' di stamina Così cominciamo a lanciare cani Non gli fa danno però Non gli ha tanta stamina Non è stamina Io non ho vita però tu non è stamina Non è che non gli fa danno lo para Non potevo pararle cazzo Non potevo parare Ma perchè devo essere così stronzo Perchè sei così stronzo figlio mio Mannaggia Certo Per ora stai natino qua Vado C'è un calcio a vuoto Non dovevo farla proprio ora Mettila So di merda No questa non posso fermarla Una volta che lui si buffa Parta ruota la skill dopo C'è niente da fare Che chiamo come le persone Ma non è vero Pezzo di merda No No Tranquillo Dai La disperazione Oh Unisci che l'ho dato no vabbè sai cos'è che con la rakiri mi metti anche tu quel buff oh sono vivo probabilmente si non è su controllo si io lo metto vabbè non vantare i danno è stupido ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto pezzo di merda dai un'oretta circa c'è voluto meno di un'ora ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto ho vinto Che farei... credo che mi dà il doppio cane tutto l'allevamento dovrebbe darmi non il doppio cane che carino coppia di Riken è finito mio dio 9 minuti ci ho messo nella seconda puntata non detto ci hai messo 50 minuti saperlo non la chiedevo neanche mannaggia mannaggia eh vabbè non pare ci siano altre secondarie sbloccate per cui devo cambiare continente o le crepuscolari se fammi un attimo andare al santuario cambio spirito vediamo come è il doppio la coppia di Riken eh già inizia a essere carina la coppia di Riken adesso si perchè prima avevi un Riken solo adesso vedi non hai più il Riken voglio la coppia di Kato non hai detto che ci sia aumenta tantissimo no no vabbè ora è forte ora è forte ci sta ci sta si forte adesso cambiare un attimino non posso livellare io non so quante ambrite avrò perso da coltizio eh vabbè questi li ho tutti e non ci posso far nulla questi non ce li ho vabbè sono una persona felice adesso posso forgiare cose nuove ovvero la Rikiri e la Bizen questa cosa o Zafune ma il più forte è la Rikiri si io voglio una Rikiri forte dove trovo la Tamagane Viola cosa devo rompere il culo a chi lo devo dare Tamagane Viola Uchigatana Senjuin è quella che aveva lui quella che mi ha dato la mi ha droppato lui che ti ha droppato si e non è malaccio però livello 28 livello a Terrei cos'è il danno rampino ah il danno la skill la skill rampino oddio quella che infilza quella che infilzi dopo un counter fa malissimo quella roba quella con cui fai più danno di solito già io non posso rompere quella però no quella no è solo quella che dà la Tamagane Viola e allora niente uffa mio computer sta per volare tu computer che sta ventolando così male si oh mamma mia poverino sta solo streamando e registrando un po' di roba ma povera scheda video esploderà un giorno eh vabbè c'ho speso po' questo sacco è più questa onore del guerriero occidentale vabbè la teniamo fa set questa c'è livello 1 perché ho una spada di alline ok quindi nient'altro mi dà quel materiale lì oh io ci provo un craft me lo devo fare fallo ho il 5% che mi esce Viola uscirà bianca perché perché non posso farne tante con sta corna di demone bianca porca troia e con la di demone le troppi dai yonkai i grossi giallo livello 29 mi piace la userò sì 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 un giorno va bene proviamo a fare una crepuscolare a questo punto lo spiritello agitato allora c'ho queste due 49 che tra l'altro danno materiali da craft Viola eccolo dove si prende sì ma livello 30 la missione è alto e tu che livello sei 31 no? eh ma livello missione io farei quella da 30 prova almeno prova proviamo abbiamo mezz'ora poi vorrei anche mangiare eh sì abbiamo una mezz'oretta per fare poi ora peccato per oggi pomeriggio già abbiamo praticamente buttato tutto il pomeriggio difatti abbiamo fatto due ore di registrazione in muoio e va bene e va bene impari che ogni volta bisogna provare e ti dico prova beh a giudicare dalla quantità di morti di cadaveri quando li missa così però ma questo è un mondo normale ok invece ho messo una vita a toglierti quella vita lì sto per dirti che è un fantasma del tizio se ti perseguita alla testa armatura 21 gloria? sì ma io invece vorrei rifaggiare l'altra rechiri eh ma la mia 255 per affamilità massima si è sempre lui è sempre che ci va sì ah no questo è una cosa eh basta ballare un altro neagrato ma esattamente che qual è l'obiettivo? sconfiggi lo spiritello di un furiato credi che c'è l'obiettivo lì davanti credo che ci sono tutte quelle cose morte lì anche i primi dieci metri sono complicati oh figata bello no ma mi sa che questi spiriti semplicemente si risvegliano e devo ucciderli ma devi andare al all'obiettivo comunque che è lì da mano non c'è nulla non c'è nulla quindi non c'è nulla se non c'è nulla non c'è nulla la un'obiettivo è dall'altra parte c'è nulla io a me come ci arriva da quella parte no ma vedete anche lì ci sono più obiettivi vai da qui è più vicino e quello nella casa nooo questo è quello della demo questo è il nostro amico solo che sputa anche a fuoco e questo è un po' più range come spirito e hai lo spirito carico proviamo che troia ma che bello ma li agri altra roba ma tanto non mi vedo bene sono morto più che altro lì è un piccolo cefo anche questi non curano piano piano no ma non credo siano fattibili cioè magari si però di uccidere troppe cose si sicuramente non può andare in giro a caso devi uscire meno alla volta si ma capisci che fa lo stesso danno di quello vero si 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 no 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 non è cosa vabbè fai le altre tanto cambiano ogni giorno no più volte al giorno ma semplicemente non ha un se eh non capisco quel cazzo di bello suono ma è un scherzissimo questo è un problema che non 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 Grazie a tutti. Come cazzo? No, non ci credo. Dai, il muro. Dai. Ma dai, cazzo. Mi sento presa per il cuore. Che carini. Carini e molto impurati. Ma non lo prendi? Qual è? Eh, lì. Non sono abituato a colore. Sono due cani. Esattamente quello che è. E tra poi ti butta fuori. Ma mi ha tirato una bomba. Sì, ma... Non è neanche caduto a terra con la skill. Tecnicamente sarebbe dovuto cadere a terra. Abbiamo un'impugna sull'altra. Magari... No, non mi direi che ho preso anche l'altra. Ma non è solo c'è la vir hier, però... A tenere... Lui non consuma sta mia parando Sicuramente è più scarso Ho finito gli elistiri peraltro Oh lupo No, no, vabbè ancora, veramente non è di caso E io da te ho fame Mangiamo Ho fame Mangiamo Ti ho detto di no Senti le voci allora, mi spiace No, 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 no Sì, ma... A me dà fastidio il fatto che... C'è cazzo, una combo, loro mi ammazzano, io devo farmi il culo per togliere i tre quarti di vita E quanti ce n'è di sti cosi? Anche volendo uccidere questo Penso tale Che poi è già parti demoralizzato perché sai che se usciti di questo non hai fatto un cazzo, c'è nato i 2000 Quindi... E guarda cosa cazzo sta per alzarsi E anche un arciere ovviamente Dai, dai, per favore Mettiamolo, ci ritornerò tra 300 livelli qui Vi romperò il culo come non l'avete mai provato prima Vabbè, prendiamo questo E andiamo via Come si fa, andare via qua E il frammento di questo coso Sì, vaffanculo Missione di merda Non ho capito cosa cazzo sono queste missioni crepuscolari Non hanno un obiettivo chissero Non sono delle missioni vere Solo una bolgia Un bordello stra difficile Beh, è inutile che mi imbarco adesso, io voglio andare a mangiare Quindi... Eh, andiamo Adesso la chiudiamo qui Al massimo riprendiamo domani Riprendiamo stasera Dipende un po' come si gira e come riusciamo a fare Per cui grazie per aver seguito Alla prossima Buonasera Buonasera